Noi fra un secolo non abiteremo più le nostre case, non sappiamo neanche più chi c***o abiterà, le nostre macchine saranno dal rotamaio, della gente non parlerà più di noi. Che resta è la nostra vita, il vissuto che abbiamo avuto, la qualità di vita che abbiamo noi, che abbiamo dato ai nostri cari e dobbiamo lavorare per questo, non per altro, perché gli anni passano.